San Giovanni ha tradito la fidanzata Giulia Stabile con la cantante Santa Manu? La ballerina sbotta sui social e fa chiarezza in merito al pettegolezzo. Nell'ultimo periodo San Giovanni è stato spesso pizzicato in compagnia della cantante Santa Manu, i più maliziosi hanno subito pensato ad un possibile flirt tra loro. Il giovane e talentuoso cantante ha tradito Giulia Stabile? Non appena il pettegolezzo si è diffuso moltissime fan dell'ex allievo di Amici 20 si sono scagliate contro Santa Manu, lei ci ha tenuto a mettersi in contatto con la ballerina per fare chiarezza in merito al suo rapporto con San Giovanni. La cantante si è rivolta a Giulia dicendole che sicuramente sarà abituata ai commenti delle persone, anche se a volte può essere pesante. Ha poi continuato dicendo che spera di non averla in nessun modo ferita. A detta sua la gente è sempre pronta a pensar male. Ci ha tenuto anche a precisare di essere fidanzata e di avere rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due. Santa Manua Giulia ha detto che sul palco lei e San Giovanni si divertono e sono in super sintonia. Questa per lei è l'unica cosa importante. Ha poi aggiunto che vuole solo fare bene il suo lavoro e che San Giovanni stia bene e sia sereno. La replica di Giulia Stabile non è tardata ad arrivare. La ballerina dopo aver pubblicato su Instagram il messaggio ricevuto dalla cantante ha smentito il presunto tradimento del fidanzato. Ha fatto sapere che molti fan stanno riempiendo Santa Manu di insulti solo perché lavora con San Giovanni e vanno d'accordo. La ballerina ha chiesto ai suoi fan e a quelli del fidanzato di smetterla. Si rende conto che in molti pensano di avere il diritto di intromettersi nelle loro questioni private solo perché sono diventati personaggi pubblici. Ha però cercato di far capire ai loro seguaci che tutto ciò non fa bene a lei, a lui e alle persone che gli stanno intorno. Ai fan Giulia Stabile ha poi chiesto di non attaccare più Santa Manu perché sta solo lavorando con San Giovanni e fortunatamente sono in sintonia. Ha poi concluso dicendo di eliminare questo immotivato odio.